Buongiorno, sono Alessandro Albani e innanzitutto vorrei ringraziare gli amici che con molto affetto hanno voluto sostenermi in questa candidatura. Sono molto felice e onorato di riconfermarmi in Consiglio Comunale e un grazie anche al gruppo della Lega che ha lavorato per ottenere questo risultato. Un grande augurio a questa nuova amministrazione, al Sindaco, alla Giunta, a tutto Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio. Per quel che mi riguarda il mio impegno sarà rivolto alla prevenzione oncologica e anche alla prevenzione di altre malattie che ritengo che sia un argomento molto importante, oltre che l'importanza delle figure più fragili come gli anziani, la disabilità e altri argomenti anche molto più trasversali. Sono appassionato di sport e quindi mi piacerebbe attivarmi anche su tematiche dello sport e della cultura. Non ultimo anche il benessere animale, far passare il messaggio di quanto siano importanti e possano migliorare gli animali nella nostra vita. Detto questo, io ringrazio tutti e speriamo che questa amministrazione riesca, anzi sono certo che riuscirà a migliorare la vita nella nostra città per il bene comune. Grazie a tutti, ciao!